Zero tasse, 45 milioni tra maggiori entrate, minori spese, investimenti regionali per 107 milioni di euro. Questi sono alcuni dei dati della manovra finanziaria 2016 del valore complessivo di 12 miliardi varata dalla regione Emilia-Romagna. Diverse le novità, tra cui l'istituzione del reddito di solidarietà, nuove risorse contro il dissesto, l'edilizia scolastica e le imprese. Un bilancio che tiene insieme il sostegno al lavoro e all'impresa, perché sapete che la nostra sessione è creare posti di lavoro, lo fa attraverso anche molti investimenti per opere pubbliche, con oltre 100 milioni di fondi regionali, gli oltre 200 attivati e ottenuti dal governo, che vuole andare alla voce di scuole più belle e più sicure, o anche nuove, ma soprattutto alla cura e alla tutela del territorio. E quindi investimenti contro il dissesto e il geologico, finalmente investimenti anche per la prevenzione, non solo interventi in emergenza, significa investimenti sulle strade, sulla montagna, più in generale tutela e cura del territorio, anche perché a partire da interventi sulla costa vogliamo al turismo dare quell'incentivo della bellezza dei nostri luoghi che serve e poi un forte investimento sul secondo pilasto, oltre a quello del lavoro, che è il welfare. Ma si è tornato a parlare anche del futuro degli ex dipendenti delle province. Noi dal 1 gennaio 2016 garantiamo tutti i posti di lavoro dei dipendenti provinciali. Con questo bilancio confermiamo anche le risorse che copriranno quella parte legata ai lavoratori che fanno riferimento alla polizia provinciale.